Arriva una chiamata di soccorso per un gattino intrappolato in un tombino. I volontari del Somerset Regional Animal Shelter di Bridgewater, nel New Jersey, pensavano che si sarebbe trattato di un salvataggio come tanti altri. Si sono diretti al luogo indicato e li hanno trovato una piccola gattina ad attenderli. Nonostante li scrutasse dal basso verso l'altro, recuperarla non è stato così banale. Tant'è che ci hanno messo quasi tre ore. Ma alla fine l'hanno tirata fuori e accompagnata in rifugio, dove ad attenderla c'era un bel bagno e una ciotola piena. L'hanno chiamata Stormi, ma ancora non sapevano che la tempesta non era ancora finita. Pochi giorni dopo, tutti hanno pensato a un errore quando hanno ricevuto un'ulteriore richiesta di aiuto per un gattino intrappolato nello stesso canale di scolo. Sembrava un errore? Invece, ad attenderli, c'era un altro micio. Ma quale combinazione? Nonostante fossero molto diverse fra loro, le due gattine erano sorelle. Sunny aveva la stessa età di Stormi, ma era più piccola e sottopeso. Le cose non sarebbero andate bene se fosse rimasta intrappolate in quel tombino ancora a lungo. Le due gattine non si sono incontrate subito. Stormi era già stata collocata in una casa d'affido. I volontari hanno voluto riunirle e, una volta che Sunny è diventata più forte, anche lei è stata trasferita dalla stessa volontaria. La riunione è stata emozionante. Erano contente di essere tornate insieme. La parte migliore della loro storia è stata l'adozione. Stormi e Sunny sono state adottate insieme dalla stessa famiglia. Da un tombino a una casa amorevole, le sorelline resteranno insieme. Se non è questo un lieto fine, grazie da Animals Power. La parte migliore della loro storia è stata l'adozione.